oh anche sta gemma di qui che spalma il danno dai accetta accetta su 30 su tre secondi il 30 per cento del danno non è male ma mi sono ricordato che poi comunque fanno più male un po di meno uno scherzo da 50 milioni anche stavolta non ho visto un po di meno Grazie a tutti Come hai fatto a morire? Il laser mi ha causato, mi ha bloccato il nemico e il laser mi ha girato vicino Di qui giustamente non hai la resurrezione, giusto? Oh, come ti dai inizio? Eh, come te resusci? Oh, 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 come te resusci? tanto bene. Ma io come un coglione ho toccato un mezzo per P.I. cosi, che pozione. Comunque lui c'è un po' l'adrenalina manca quando fai queste cose. Sai che sei sul TRT, sai che tutto si perde. Oh, visto non ti ha shottato? Eh, ho pigiato l'invulnerabilità, ora ce l'ho, ora ce l'ho, ora ce l'ho messo io. Ti ha elevato meno della mezza della vita, comunque, non so quanto che fa. Comunque l'esperienza l'hanno ridotta di tante, se ne fa molta di meno. Se ci vuole adesso, mi ha scappato molto. Già, su questo livello mi pare che mi ha scappato tanto, però su quelli prima ho fatto poco. E' un po' se li trasporta al giocatore, hai visto? Ma, qu'hai fatto? Hai rilasciato? Che? Ma dove vai? Hai sbagliato, dovevi aspettare che te resuscitavo. Io non sono resuscitato, io sono morto. Eh, ma dovevi aspettare che te resuscitavo lì? No, non sono morto, che non mi posso teletrasportare al giocatore. Ah, beh, no, penso che eri... Eh, no, sì, infatti l'avo letto. Non si può fare. Tocca sta sempre per forza vicino. Anzi, questo è un punto a sfavoro del mech. Il baregno si vuole. Eh? Qui al baregno. Si mette a gioca a Dota. Ah, sicuro? Sperbio di oggi, comunque... Ho scoperto, col frego metto un po' di cose. Aiutano a cominciare a giocare, vabbè. Chi cos'ho tu, cugino? Ho la mia... Prego te la... Si. Praticamente, tu sulle impostazioni, fanno delle build che hanno fatto della gente. Se tu le imposti, il gioco, invece di consigliarti gli oggetti del gioco, te le consigliare gli oggetti della build, capito? Da questa. Oh, capito. Ah, è interessante questo. E' un aiuto da bobo. Ah no. Questa botta saltiamo a guarda, quasi al 30 non so come fanno fai salti... si che la stiamo a chiudere la metà del tempo mi tocca a vedere arrivati da un certo livello quanto ti fanno saltare perchè magari all'inizio fate saltare 16 livelli c'è anche senso ti fa saltare tanto secondo me in base a quando ci metti quanto tempo ci avanzi mi tocca a vedere com'è il boss se ci mettiamo un po' a fallo ah non ci mette in tanto perchè io posso far 5 frecce vieni arrivati... adesso allora agimo giù un'allegria ho preso da nera 29 3 leggendari col metto quando sei arrivato? mi pare al 28 mi ricordo è superato mi ricordo cioè che l'avevamo fatto ma non l'avevamo finito sostanzialmente allora 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 questo quel che c'è? la vitalina che c'è? il 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 questo un a dubai i risulti che poter marriva calcettante